Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. Oggi andremo a provare questi due prodotti della Pantene Pro V alla keratina. Se volete sapere cosa ne penso, restate qui con me! È un shampoo con protezione keratina che va a rigenerare e proteggere i nostri capelli. È uno shampoo per capelli secchi, opachi e danneggiati. Ci dice anche che questa formula di shampoo più preziosa e ricca dona ai tuoi capelli il nutrimento di qualità di cui hanno bisogno. Questo shampoo protezione keratina deterge delicatamente e aiuta a riparare i capelli intensamente danneggiati, lasciandole visibilmente belli e riparati. E soprattutto questo shampoo va a riparare i danni dello styling. Ci dice anche che prima di risciacuarli bisogna tenerli un minuto in posa. Dopo aver lavato i nostri capelli con Pantene Pro Miracle Shampoo, come d'istruzione abbiamo lasciato un minuto in posa. E ora andiamo a tamponare i nostri capelli. E ora andiamo a applicare la nostra maschera rigenerante. Ci consiglia di applicare sui capelli umidi, iniziando dalle punte, massaggiando fino ad arrivare alle radici. E' un trattamento intensivo che aiuta a combattere i segni di danni in una sola applicazione, rinforzando e nutriendo i capelli secchi e danneggiati. E' una formula avanzata di Pantene Pro V, protezione keratina, con agente micronutrienti, addirittura testato dall'Istituto Svizzero della Vitamina. Dobbiamo lasciarlo in posa per due minuti. E' una formula avanzata di Pantene Pro V, protezione keratina, con agente micronutrienti, addirittura testato dall'Istituto Svizzero della Vitamina. Pantene Pro V, protezione keratina, con l'Istituto Svizzero della Vitamina, con l'Istituto Svizzero della Vitamina. Questi prodotti hanno dato vita, lucentezza e morbidezza ai miei capelli. Sono davvero soddisfatta perché hanno fatto il suo lavoro. Già dalla prima applicazione dello shampoo sentivo i miei capelli belli morbidi, ma con questa maschera sono andati a nutrirli ancora il 100%. E siamo arrivati alla fine di questo video. E spero che il video vi sia stato utile. Se avete qualche dubbio su questi prodotti qua, lasciatemi scritto sotto nei commenti che risponderò con molto piacere. E se il video vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. E ci vediamo molto presto in un prossimo video. Ciao!